Proprio con l'introduzione dell'euro che vedevo prima nei vostri titoli, per essere competitivi a livello internazionale cosa è successo? Una volta veniva svalutata la moneta, potevamo esportare ed avevamo capacità produttiva molto elevata, adesso si penalizzano i lavoratori, adesso diminuiscono gli stipendi e diminuiscono le garanzie per i lavoratori, questa è stata una scelta politica che ha combattuto a favore probabilmente di grandi multinazionali, di gruppi imprenditoriali, sicuramente contro il lavoratore e contro il lavoro.